Se pensiamo a certe espressioni lessicali della nostra lingua, è piuttosto facile capire quanto si annidino ancora differenze di considerazione rispetto ai generi maschile e femminile. Ad esempio, quante volte hai sentito nominare la casalinga di Voghera e l'appellativo signorina, che ancora oggi alcuni utilizzano per connotare donne di una certa età che non sono sposate? Che cosa si porta dietro? E vogliamo parlare del termine zitella e del suo corrispettivo maschile che è scapolo? Sono Sergio Massio, il pallino di facilitare le relazioni tra le persone, ma anche di aiutare a stare meglio con se stessi. Dopo la sigla vi diamo insieme alcuni indizi lessicali che ci dicono quanto la nostra cultura sia ancora molto patriarcale. A tra poco! So che tra alcuni maschi sarò impopolare con questo video e che fioccheranno molti pollici all'ingiù, ma credo che potremmo fare un meraviglioso passo in avanti sul piano culturale se solo iniziassimo, ad esempio, a stare più attenti a ciò che diciamo, alle parole che usiamo, noi maschi soprattutto, quando parliamo delle donne. Qualche giorno fa stavo tornando da un fine settimana in una valle del Trentino e mi fermai a bere un caffè in un paese piuttosto noto dell'altra Val Camonica che si chiama Edolo. All'interno del bar c'era il titolare, un uomo sui 40 anni che parlava con un cliente abituale di mogli e di donne, in particolare, con un'eleganza che puoi immaginare. E a un certo punto disse all'amico, senti perché non importiamo un po' di afghane che loro sono abituate a non rompere le palle ai mariti? Beh, se sei uno che apprezza questo genere di battute, è meglio che tu fermi il video adesso, metti un bel pollice all'ingiù perché credo proprio che non ti piacerà ascoltarmi. Non voglio addentrarmi nella dappocaggine di una battuta sulle donne afghane, proprio all'alba della tragica rivincita del regime talebano che le vedrà ancora una volta vittime, e preferisco rimanere su cose più leggere. Quindi iniziamo a fare un po' di chiarezza sull'espressione casalinga di Voghera, ancora molto usata in Italia senza che vi sia una vera e propria consapevolezza di quanto porti con sé un rettaggio culturale piuttosto datato. Credo sia interessante innanzitutto fare il punto su quando si utilizza questa formula, che sembra nasca dal lessico giornalistico del secondo dopoguerra e vada a indicare la figura femminile piccolo-borghese di cultura medio-bassa, fruitrice di programmi tv piuttosto scadenti sotto il profilo culturale. Se un prodotto piace alla casalinga di Voghera, un piccolo comune della provincia di Pavia significa che piace alla massa. Se un concetto lo capisce la casalinga di Voghera, allora lo può capire chiunque. E via così. Si utilizza quindi questa espressione per indicare un individuo femminile che serva da paradigma per un certo tipo di persona, di un genere preciso, con una cultura medio-bassa, una professione chiaramente poco edificante. Per il genere maschile, al fine di individuarne un corrispettivo, si parla di signor Rossi, al massimo di pinco pallino, senza dare chiari riferimenti alla sua professione. Il signor Rossi può essere un operaio, ma anche un fornaio, un meccanico, un autista. La donna di Voghera invece è casalinga e si scoprirà grossomodo nel 2007, grazie a un'inchiesta voluta dalla trasmissione Melog di Radio 24, può essere anche una prostituta. Di una puttana, hai capito bene. Una donna che offriva il suo corpo tra gli anni 50 e gli anni 80 sulla soglia della propria casa in cambio di qualche soldo proprio nel piccolo comune di Voghera. Vediamo adesso la differenza nelle parole che vanno a identificare giovani e adulti nella nostra lingua. Una donna non sposata ancora oggi si chiama signorina, anche se finalmente se ne sta perdendo un po' l'abitudine. Il termine signorina va a connotare un individuo femminile che, oltre a non essere sposata, è anche giovane. Dopo una certa età la signorina, se non trova il marito, si chiamerà nubile, parola che deriva dal verbo latino nubere che significa prendere marito. Nella parola nubile è in situ il concetto che a una certa età si dovrebbe prendere marito e si dà ancora per scontato troppo spesso che se una donna è nubile lo è perché nessun uomo l'ha voluta e quindi il passo da nubile a zitella è breve ed è molto chiara l'aura dispregiativa che si tende a mettere su una donna in età da marito che ancora il marito non ce l'ha. Solo da sposata una donna ha diritto a sentirsi chiamare signora. Reniamoci conto del fatto che nelle formule di denominazione della donna, ancora oggi, alla faccia della privacy si evince il suo stato sociale, ovvero se è sposata oppure no. Il signor Rossi, invece, chi se ne frega se è sposato o no. Un uomo dopo una certa età signore lo è comunque e prima di quell'età non è più nemmeno un signorino perché il termine è caduto in disuso per fortuna da quasi un secolo, forse proprio per garantire una certa riservatezza che alla donna ancora oggi non può essere garantita. Ma se il signor Rossi non è sposato come si può denominare? Come si chiama un maschio non sposato nella nostra società? Si chiama scapolo. Conosci l'etimologia di questo aggettivo? Beh, è interessante sapere che deriva dal latino capulus che significa capio e con l'aggiunta del prefisso ex diventa chiaramente libero dal capio, ovvero libero da vincoli. È una storia, quella che abbiamo alle spalle, che ancora ha i suoi strascichi sul piano delle differenze di genere. E poi ci domandiamo perché ancora oggi, a parità di ruolo in moltissime aziende, il maschio prenda uno stipendio più alto rispetto alla femmina. Ci fermiamo qui. Ci diamo appuntamento tra una settimana, sabato mattina alle 11, una nuova puntata di Briciole di Comunicazione. Buona settimana da Sergio Massi. Briciole di Comunicazione. Buona settimana. Briciole di Comunicazione. Buona settimana.